Ciao a tutti i cubetti, che macedoni sono tornati? Oggi faremo un altro esperimento in macedonia pazzi. Abbiamo degli esperimenti da fare, ma tanti. Gli ingredienti sono colorante, giallo, rosso, blu, ma va bene tutti coloranti. Latte e detersivo. Delle palline di... Cotone. Cotone e una ciotola grande. E piatta. Vi consigliamo di usare l'alcol, ma noi non avevamo l'alcol e proviamo con il detersivo per i piatti. E se non funziona... Ciao. Ora versiamo il latte. Dobbiamo fare un piccolo strato omogeneo. Omogeneo. Ancora? Dove riempire tutto. Ancora? Sì, non è tutto buono. Ok, perfetto. È finito. Adesso bisogna fare delle gocce piccole. Laterali, così. Con un colore. Poi delle altre gocce lontane che non si tocchino con l'altro. E adesso con il rosso facciamo una cosina qui. Non facevamo il centro. Abbiamo rovinato. No, funziona. Ho pucciato per bene... Il cotone. Il cotone è il detersivo. E ora proviamo a metterlo al centro. Lascialo. No. Non succede niente. Adesso vediamo se si sparge. Sì, si è sparso. Ha funzionato. Si stanno mescolando pochi colori. Adesso proviamo ad aggiungere il colore rosso per pittura. Uno ho preso. Sembra un fiore. Che bello. Vedi che si stanno muovendo? Io però prima avevo preferito... Io aggiungerei ancora un po' di blu. O di giallo. Allora ragazzi, si vede molto bene da qua. Ma voi vedete un po' bianco. No, non si vede tanto bene. Ok, aggiungi ancora delle goccine rosse. Qui attorno? Sì. C'è le goccine che cadono si vedono, ma non si vede tanto il colore. Ovviamente dal telefono noi lo vediamo benissimo. Wow! C'è il giallo più blu. Che bello. Beh, direi che questo esperimento è proprio riuscito bene. Questo sembra un gireno. Sì, guarda che scappa, guarda che scappa. Anche questo sta iniziando. Guarda, guarda, guarda. Guarda che spinge il bordo. Guarda. E guarda questo che gira. Che bello. Beh, direi ragazzi che questo esperimento è riuscito proprio bene. E è venuto bellissimo. Il gireno si è bloccato. Ma proprio dei bei disegni. Beh, ciao. Probabilmente con l'alcol le spinte sono più grandi. Guarda, guarda, guarda. Guarda che adesso cuore, eh. Beh, però dai, siamo... Proviamo ancora con un po'. No? Vabbè. Ciao. Allora, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Bacioni, abbracci. Ciao, ciao.